A te la nucia, a te i miei fratelli, che vadano in carineo. Ecco io sono con voi, su tutti i giorni. Ecco io sono con voi, ecco io sono con voi, ecco io sono con voi. Siamo stati ad un incontro con il Papa e abbiamo ricevuto un messaggio di speranza e cerchiamo di portare le persone a Cristo perché in questa umanità, in questo tempo, c'è proprio bisogno di Cristo. Purtroppo ci sono tante persone che vivono da sole per eventi particolari, separazioni, e noi cerchiamo di portare le ragioni di Gesù Cristo risuscitato, che ha vinto la morte ed è venuto per vincere anche le nostre morti, quelle cose che ci fanno soffrire. E ecco, con gioia portiamo questo annuncio come gli Apostoli nei primi tempi della Chiesa. Sempre con l'aiuto del Signore, noi non siamo migliori di nessuno. Cerchiamo di portare la nostra testimonianza, la nostra esperienza. Siamo stati ad un incontro con il Signore di Gesù Cristo risuscitato, che ha vinto il Signore di Gesù Cristo risuscitato. Ora io sono stati ad un incontro con il Signore di Gesù Cristo risuscitato, che ha vinto il Signore di Gesù Cristo ris pesar e di dire bened över, che mi ch Effectivo ris Commissi per la Stinnanınsanza, il Signore di Gesù Cristo risuscitato.